Prima di iniziare con il video volevo dire di iscriverti al mio canale, lasciare un bel mi piace, detto questo buona visione. Ebbene si ragazzi e benvenuti in questo nuovo video horror, oggi parleremo del secondo avvistamento di Jonathan Galindo. Ci troviamo in Messico dove un utente aveva scritto su Instagram Jonathan Galindo, ma circa due ore dopo si sentono rumori provenire nel suo giardino, ma quello che riprende è davvero scioccante. Con questo vi lascio la video completo. Grazie. 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 Grazie.